A Bottegone sulla via Fiorentina è stato inaugurato il primo distributore di carburanti Conad nel comune di Pistoia. Questo è il primo carburante tra l'altro che apriamo a Pistoia. Siamo orgogliosi perché questa è la nostra sede, era l'unico concept che ci mancava. Abbiamo già la parafarmacia, il PET, il bistro e con questo punto vendita di carburanti riusciamo a dare un'offerta completa ai nostri consumatori. Quindi copriamo a 360 gradi quelle che possono essere le loro esigenze. È importante perché riusciamo con i volumi che noi sviluppiamo su scala nazionale a poter applicare dei prezzi che sono fortemente competitivi e quindi riusciamo a dare un vantaggio ai nostri consumatori in termini di economicità, ma soprattutto ha un effetto calmirante per la piazza e un risvolto sociale. Abbiamo 8 distributori in Toscana, quindi con questo andremo a 9 e due numeri per farvi capire quanto sono importanti. Noi siamo partiti nel 2005. Ecco, solo in Toscana con questi 8 distributori dal 2005 ad oggi, quindi in 20 anni, abbiamo fatto risparmiare 65 milioni di euro. Ovviamente i nostri clienti fedeli che ha la carta fedeltà potranno ottenere ulteriori vantaggi in quanto abbiniamo noi iniziative e offerte promozionali con i supermercati, con i nostri supermercati e con il distributore, così come con gli altri concept. Per cui ci sono ulteriori vantaggi per i possessori di carta fidelity. Speriamo di contribuire anche in questo settore a un calmeramento dei prezzi. Sarà così come è stato in tante altre piazze, appunto dove Conor è presente con i suoi distributori. E quindi ci aspettiamo che non solo il bottegone, non solo i clienti del bottegone, ma anche quelli di un territorio più ampio, da Pistoia a Quarrata, approfittino di questa opportunità. Grazie.